Allora, l'inizio della sezione... L'inizio della sezione... Ma questo... Vieni, thriller! Villarreal Azz cousa... Villarreal Azz scripture... Azzolla, azzolla... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello! Grazie. Grazie. Vado a raccattare il frisbee. Raccatta frisbee lei. Io. Fa una pausa di un momento. Adesso si fa un'altra prova, provando da là verso qua. Altra ripresa. Raccetto. Sì Sì, è preso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.